di Kine Tanas Becchezzi, 2,12 e 8,7 sul campionato, quindi 9,6, 3,14, 4,2 nuovo per il giorno di Parretti, il primo per il giorno di Parretti è un'attività di Parretti, la partenza di Parretti è un'attività di Parretti occupati nel tema sitica quindi dice Kine Tanas Becchezzi, 2,12 e 4,2 la Pia, lo primo per il giorno di Parretti alla parte della Pia, la prima sera di Parretti e i due centristi, la Sonsi Rastri è partita, il Brasile di 200 misti assoluti Maschini in corsia 4 campione del mondo nei 400 misti Argento nei 200 misti quindi per questa gara un'attività di mondiali, 14, medalli mondiali per Laszlo Cey ha fatto 25,94 e va il suo passaggio passaggio su Pesce Minkrazze direte per lui per il 26,77 passiamo alla frazione d'orso per l'Asso Cey la frazione l'anere 36 e 54 la frazione l'anere di naslo c'è 36 e 51 la frazione l'anere di naslo è libero la frazione l'anere di naslo c'è la 4 la frazione l'anere di naslo c'è la 4 la frazione l'anere di naslo c'è la 4